Salve a tutti da Mario Santagati e da Chesslogger per i video problemi. In questa posizione che vedete muove il bianco e vince. La posizione è tratta da una partita che si è giocata nel 1962 tra David Parr e Raymond Keen. Se avete già trovato la soluzione potete scriverla qui sotto nei commenti. Io vi do appuntamento alla settimana prossima sempre con i video problemi se è sempre con Mario Santagati ovviamente Chesslogger. Ciao! Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie! 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 Grazie!